Caos, scontri, allarma bianca, rotture, ricomposizioni, tradimenti e sacrifici umani. I partiti politici stanno dando soprattutto in queste ultime ore lo spettacolo più indegno possibile facendo i conti con una legge elettorale scritta con i piedi da mentecatti che sta facendo impazzire gli stessi mentecatti che l'hanno concepita. Sta di fatto che nonostante la notte insonne nel tentativo di far quadrare i conti nelle liste le incertezze restano ancora molte. Proviamo a fare un riepilogo. Nel collegio uninominale di Andrea Barletta Trani e Biceglie i candidati dovrebbero essere l'assessore regionale Filippo Caracciolo di Barletta per il centro-sinistra, il consigliere regionale Francesco Ventola di Canusa per il centro-destra, l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio di Andria per il Movimento 5 Stelle e la collega dottoressa Lucia De Mari di Trani per liberi o uguali. In quello di Molfetta Biceglie Corato, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi l'avvocato Francesco Spina ex sindaco di Biceglie per il centro-sinistra, il senatore Gino Perrone di Corato per il centro-destra, Nico Bavaro di Biceglie per liberi o uguali. In quello di Manfredonia e Cerignola l'onorevole Michele Bordo di Manfredonia per il centro-sinistra, il consigliere regionale Gian Diego Gatta di Manfredonia per il centro-destra e Antonio Tasso sempre di Manfredonia per i 5 Stelle. Nell'istino bloccato Camera di Foggia più collegio di Andria, il capolista sarebbe l'onorevole Michele Bordo seguito da Iaia Calvo ex sindaco di Orta Nova. Per il centro-destra Gian Diego Gatta per i 5 Stelle, l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio e per liberi o uguali la direttrice d'orchestra di Foggia Gianna Fratta. Nell'istino bloccato nel collegio di Bari in cui è inclusa Biceglie, per il centro-sinistra il capolista e il segretario regionale del PD, avvocato Marco Lacarra, per i 5 Stelle l'onorevole Giuseppe Brescia di Bari e per liberi o uguali Michele Laforgia, sempre di Bari. Riguardo il senato, nell'uninominale Andrea Manfredonia, per il centro-sinistra l'europarlamentare onorevole Enela Gentile di Cerignola, per il centro-destra potrebbe essere Francesco Ventola, che in tal caso lascerebbe il collegio Camera ad altro candidato, per i 5 Stelle il professor Ruggero IV di Barletta, per liberi o uguali la consigliera comunale di Barletta Annetta Franca Bandiera. Nel collegio uninominale di Bari, per il centro-sinistra Saverio Tammacco di Molfetta, per il centro-destra potrebbe saltare il senatore Antonio Azzollini, in tal caso al suo posto sarebbe candidata Carmela Minuto, sempre di Molfetta, per i 5 Stelle la direttrice del carcere di Trani, dottoressa Bruna Piarulli. Per il listino bloccato del senato nel collegio Bari-Bat-Foggia, la capolista per il centro-sinistra sarebbe la presidente regionale del PD Assuntila Messina di Barletta, per il centro-destra Licia Ronzulli di Margherita di Savoia, per i 5 Stelle Alfonso Ciampolillo di Bari e per liberi o uguali l'onorevole Annalisa Pannarale di Trigiano, seguita dall'avvocato Michele Di Lorenzo di Andrea. L'onorevole Francesco Boccia di Biceglie, dato per capolista al Senato, è stato invece candidato al primo posto nel listino uninominale del collegio di Lecce. Le liste verranno consegnate lunedì e molti cambiamenti sono dietro l'angolo anche nelle prossime ore, in una situazione ancora in evoluzione dove, come dice una canzone, tutto ciò che sembra poi non è.